Dopo le scuole torna la paura del covid anche nelle case di riposo. Nel mirino del virus ancora una volta la struttura per anziani di Isarego, già messa a dura prova questa primavera nella fase di lockdown del paese. Su 124 ospiti attuali sono 6 quelli risultati positivi e 2 gli operatori. Secondo quanto accertato a fare entrare il covid all'interno della casa di riposo sarebbero stati proprio i due operatori. L'URSS si è subito attivata per effettuare i tamponi a tutte le persone che hanno avuto un contatto con i casi positivi. Cinque anziani sarebbero asintomatici o comunque con sintomi lievi come anche gli operatori, mentre uno degli ospiti positivi i sintomi sarebbero più rilevanti. Lunedì l'USLotto provvederà a fare i tamponi a tutti gli ospiti della casa di riposo e si è resa disponibile ad eventuali ricoveri. Immediatamente si è provveduto ad isolare gli anziani dagli altri ospiti e a tracciare i loro contatti in casa di riposo, come per gli stessi operatori. L'amministrazione dell'IPAB si è già attivata per mettere in piedi tutte le misure di sicurezza per far fronte a questa situazione e l'amministrazione comunale si sente quotidianamente con la casa di riposo. Intanto sono state sospese le visite di parenti e familiari degli ospiti e si è provveduto ad un'ulteriore sanificazione. La situazione è sotto controllo, spiega il sindaco, ma a questo punto aggiunge sarebbe necessario effettuare con maggior frequenza dei tamponi o test rapidi di controllo.